Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. E Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione e il rituale dei giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro, riempite da acqua leggiare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credetteri in Lui. Parola del Signore Alleluia 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 vorrei con voi condividere una breve riflessione partendo dalla espressione con la quale si conclude la pericope evangelica che solo l'evangelista Giovanni ci narra del miracolo delle nozze di Cana ci viene detto che questo a Cana di Galilea fu l'inizio il primo dei segni dei miracoli compiuti dei prodigi effettuati da Gesù cosicché egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui manifestare la gloria abbiamo celebrato il giorno dell'epifania la manifestazione di Dio a tutti i popoli della terra sicché vengono da tutti i lati anche i re di Persia di Sabba e di Seba il signore di Numidia Melchiorre Gaspare parte da sotto dalla Numidia e giunge fino alla terra santa e anche da Ur dei Caldei Baltasar che sale per giungere al signore da tutti i lati arrivano per adorare il signore perché si era manifestata la gloria di Dio la gloria di Dio che si è manifestata e sempre si manifesterà fino alla fine dei tempi tra l'altro il 6 di gennaio abbiamo letto abbiamo proclamato anche l'annuncio della Pasqua e così la liturgia ci fa dire pregare e contemplare e ancora domenica scorsa nella festa del battesimo del Signore si parlava della teofania Dio che si manifesta si aprirono i cieli e si udì una voce dal cielo questo è il figlio mio l'amato in lui opposto il mio compiacimento quindi Dio si è manifestato il padre si è fatto sentire si manifesta cioè fa sì che tutti possano riconoscere la sua presenza Gesù manifesta la sua gloria che Gesù manifesta la gloria che Gesù manifesta e la felicità lo stupore la bellezza che permette a tutti di vedere come Dio si prende cura di noi come Dio vuole realizzare la sua volontà di bene quindi la nostra felicità nella semplicità di un gesto vuoi anche quello di attendere a che la festa non termini ogni tanto cantiamo la nostra festa non deve finire e cantiamo alleluia alleluia come i bambini veramente la festa non può non deve finire perché se c'è Gesù la nostra vita è una festa vera e propria il Vangelo inizia oggi con una espressione l'introduzione è in quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea ma se andiamo a vedere nel Vangelo di Giovanni troviamo che questo viene preceduto da un'espressione il terzo giorno e ancora prima troviamo due versetti dove ci dice il giorno dopo il giorno successivo e poi ci viene detto il terzo giorno siamo al sesto giorno del racconto ed è importante capire questo perché quando il Vangelo ci richiama al sesto giorno ci fa comprendere che si parla del sesto giorno della creazione cosa succede il sesto giorno della creazione cosa ha creato di il sesto giorno ha creato l'uomo e lo creò maschio e femmina li creò creò l'uomo e creò anche la donna e adesso lo vedremo perché Gesù chiama sua madre non mamma non Maria ma la chiama donna che non è un segno di distacco adesso lo vedremo in questo sesto giorno c'è una festa di nozze che il sesto giorno fa riferimento anche all'imperfezione il sei il numero non perfetto e proprio quando c'è la festa c'è qualcosa di imperfetto ma anche il vino in in questa festa viene a mancare il vino che è il segno della gioia dell'allegria non tanto della baldoria e dell'ubriachezza ma è il segno della convivialità viene a mancare potremmo dire quello che è il senso della gioia e qui mi permetto di dire le nostre assemblee domenicali hanno questa gioia perché tante volte può darsi che è venuto a mancare questo vino siamo all'inizio del vangelo e questa è la prima cena di nozze il vangelo si concluderà con l'ultima cena di nozze in questa prima cena c'è una trasformazione nella seconda ci sarà un'altra trasformazione adesso vedremo la mamma di gesù maria si accorge ma non inizia a pettegolare maria si accorge e subito va da suo figlio e gli dice non hanno vino questa è la bellezza con la quale maria ci presenta un ministero di intercessione noi quando c'è qualcosa che non va per noi o voi anche per altre situazioni che noi ci accorgiamo piuttosto che dircele tra di noi e fare corsi di taglio e cuscito o pettegolezzo chiamiamoli come vogliamo o curtiglio o attività di cortile noi dobbiamo immediatamente rivolgerci a Gesù dirlo a Gesù e dire qual è la situazione che ci attanaglia che ci crea difficoltà disagio senza aggiungere nulla vedete maria non ha detto senti non hanno più vino manda i tuoi discepoli alla cantina accanto e prendine un po oppure non dice non hanno più vino e fai un miracolo ha detto questo maria no noi non dobbiamo dare mai suggerimenti a dio perché dio sa quello che deve fare forse siamo noi che non vogliamo fare quello che dio ci dirà da fare e ci darà da fare gesù risponde a sua madre donna che vuoi da me era bella l'antica traduzione della 6 che c'è tra me te o donna che non significa semplicemente non mi scocciare potremmo pensarla così molti anzi prendono questa espressione intanto donna fa riferimento a maria che è quella donna che si sostituisce la nuova eva che sostituisce la prima eva perché la prima eva fu disobbediente maria invece ci insegna l'obbedienza dalla risposta qualunque cosa lui vi dirà fatela cioè l'obbedienza fatta persona maria è quella donna che scaccia la testa all'antico serpente perché è stirpe della prima eva e lei è la nuova eva ecco perché viene chiamata da gesù donna e ai piedi della croce gesù la chiamerà ancora donna ma non per dire come diciamo noi dispregiativo femmina stat muta no ma per indicare mulier per indicare la dignità della donna che in maria è vera dignità e quando gesù dice che c'è tra me e te qui dovremmo comprendere che è la novità che gesù sta instaurando quella espressione che c'è tra me e te era l'espressione che veniva usata quando due nazioni volevano interrompere i rapporti diplomatici alla fine che cosa ci accomuna tra noi niente io ritiro le mie ambasciate tu ritiri le tue gesù ci sta dicendo che sta realizzando sta rompendo la vecchia alleanza per creare la nuova alleanza questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza dirà nell'istituzione dell'eucarestia gesù tra l'altro con quella espressione che vuoi da me non significa noi possiamo anche pensarla un po e che vuoi mia no non è questo vi faccio una domanda se venisse io e dicessi senti ho bisogno sorella mia la mia sorella e dico senti sorella mia ho necessità che mi presti qualche soldino e lei mi dicesse mi dicesse parla quanto vuoi che cosa significa parla quanto vuoi nel senso può parlare quanto vuoi non te li do oppure significa parla quanto vuoi dimmi quanto vuoi che sono la cosa una diversa dall'altra però con le stesse parole io non so se c'eravate voi alle nozze di cana io sì io c'ero e so che veramente a parte la battuta no c'è chi si lascia muovere dallo spirito qui veramente sant'ignazzo di loiola negli esercizi spirituali dice tu devi essere presente in quella pagina del vangelo tu ci devi essere quando gesù ti racconta il vangelo non è per raccontarti quello che è successo quello che gli è successo a lui e quello che è successo a maria ma perché tu devi entrare nel vangelo devi essere presente tu devi capire quello che dio in quel momento fatto uomo sentiva come uomo per la nostra umanità amata voluta bene fino alle estreme conseguenze gesù sicuramente avrà detto che cosa devo fare non è ancora giunta la mia ora e la madre con un atto proprio di fiducia smisurata dicendo ai servi qualunque cosa lui vi dirà fatela alla fine gli manda i servitori significa sì non è ancora giunta l'ora poi gesù dirà padre giunta l'ora glorifica il figlio tuo capite che tutto un riferimento anche al mistero l'unico mistero di cristo dall'inizio alla fine e dove lì si realizza potremmo dire l'ora inizia il compimento si stacca con quello che c'era prima per realizzare il nuovo meraviglioso Gesù si vede arrivare quei servitori ai quali la madre ha detto qualsiasi cosa vi dirà fatela questo significa ubbidite qualsiasi cosa vi dirà neanche io ho capito quello che stava succedendo quando è arrivato l'angelo però ho ubbidito e so che è arrivato quello che doveva arrivare capite che è l'esempio dell'ubbidienza a Maria che ci insegna l'ubbidienza e i servitori vanno da Gesù e viene detto quasi come un dipinto che vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei ora noi pensando alle anfore pensando alle giare pensando ai contenitori forse pensiamo magari qualcuno di noi un po' più anziano se lo ricordo bummuleggio no ecco oppure non so a quartara ecco il contenitore di coccio che tu prendi porti alla sorgente alla fontana prendi l'acqua e lo porti dentro no queste sei anfore erano di pietra e quindi non erano trasportabili chi è stato a cana di galilea ti ricordi antonella giovanni chi è stato in terra santa mariella ti ricordi quando siamo andati in terra santa ci sono queste anfore là ce n'è una la cana che è rimasta c'è questa anfora di pietra questa giara questa questo contenitore che non si può spostare non è che puoi andare non è che puoi sceppare a gebbia a botta sorgente e poi la riporti piena non lo puoi fare non lo puoi fare e c'erano queste anfore di pietra che si trovavano anche al tempio di gerusalemme queste anfore che servivano per le abluzioni e che servivano per la purificazione rituale dei giudei e queste anfore contenevano da 80 a 120 litri vuoi anche solo di acqua pesavano già 120 chili per cui erano difficilmente trasportabili e gesù dice immediatamente riempite d'acqua leggiare ora a questo punto questi servitori avrebbero potuto dire scusi lei è un invitato non è il wedding planner mi pare che si chiamino così ormai l'organizzatore della cosa per cui si faccia l'invitato lei poi ci sta dicendo di riempire l'acqua leggiare che servivano per lavarsi le mani prima di mettersi a tavola qua sono tutti a tavola si sono già lavati le mani alla fine a noi manca il vino non è che ci manca l'acqua nelle non funziona l'acqua nel lavandino nei lavabbi alla fine avrebbero potuto intavolare questa discussione o no era lecita la domanda sì l'hanno fatto no perché che cosa gli era stato loro raccomandato qualunque cosa vi dirà fatela e zitti non dovete dire niente noi con il Signore non dobbiamo discutere ma per chi la fare perché devo fare questa cosa no tu la devi fare e basta ecco la vera autorità di Gesù l'autorevolezza nel suo dire riempite d'acqua leggiare e questi servitori le riempiono fino all'orlo se lui ha detto riempitele loro le riempiono fino all'orlo quando è una cosa piena quando è tutta piena e loro hanno fatto quello che Gesù ha detto non è che diceva bene riempiamo metà tanto acqua è a che serve? ci sta dicendo di riempire l'acqua leggiare no? le riempiono fino all'orlo perché Gesù aveva detto di riempirle e dice loro di nuovo ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto l'architriclino il maestro di tavola il sommelier l'architriclino indica il sommo sacerdote anche andate a portargli e fategliel'assaggiare ed essi gliene portarono che cosa gli portarono? sicuro? che cosa gli portarono? no! gli portarono l'acqua giusto? portarono l'acqua c'era l'acqua nelle giare ed essi gliene portarono quindi hanno preso di questa giara l'acqua ce lo dice il versetto dopo come ebbe assaggiata l'acqua che nel frattempo era diventata vino colui che dirigeva il banchetto il quale non sapeva da dove venisse ma lo sapeva da dove venisse che cosa? no! il vino in questo caso perché aveva assaggiato ed era vino e dice ma dove viene questo vino? che buono! ma lo sapevano i servitori che invece avevano preso l'acqua e quindi questo miracolo dove è avvenuto? nelle giare nel contenitore dei servitori perché il miracolo Gesù lo fa ai servitori nelle mani perché hanno servito? perché quelli sono i veri diaconi i veri servitori quello il miracolo non l'ha fatto semplicemente la parola di Gesù perché Gesù non ha detto sin salabim abracadabra non ha fatto nessuna formula magica Gesù ha detto semplicemente di fare quello che era naturale fare e l'obbedienza dei servitori ecco il carisma della fede adesso lo vedremo quella fede fiduciosa noi gli portiamo facciamo quello che lui ci dice ora prendete e portatene al maestro di tavola loro gliel'hanno portato noi che hanno detto se io gli metto l'acqua al maestro di tavola quello la beve e mi lascia correre un bicchiere in coggio perché così sarebbe stato no? se io ti do da bere qualcosa io voglio il vino tu mi tiri ti tiri il bicchiere oppure ti insulto te lo butto addosso no loro hanno fatto quello che Gesù ha detto e proprio perché loro lo hanno fatto che è avvenuto il miracolo il miracolo lo hanno realizzato loro obbedendo alla parola di Dio perché se la parola di Dio viene obbedita viene ascoltata quello che il Signore ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo forse lo capiremo intanto lo facciamo poi come venne su punta ecco così come sarà e lo racconteremo quando ebbe assaggiato il vino chiamò lo sposo e gli disse tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono stamattina pensavo alla filastrocca che ogni tanto si cantava ti ricordo quando ero muzziti ne mangiavamo i zuccarati ora che siamo maratati cauci pugni e tombolate dove confetti si vedono i difetti tante volte anche nel matrimonio perché questo passo si legge nei matrimoni proprio per questo perché non dobbiamo cambiare tante volte ci sono situazioni dove si cambia e qualcuno dice ma è cambiato non è più l'uomo di cui mi ero innamorato prima non è più la donna di cui mi è è cambiata pure lei e allora cambio lei o cambio lui no qua non c'è da cambiare niente noi dobbiamo conservare ricordati il tempo dell'amore vero allora lì è il miracolo conservare l'amore custodire l'amore tu hai conservato il vino buono fino ad ora e adesso vi faccio una domanda e può essere l'una e l'altra la risposta è un rimprovero oppure un complimento può essere sì un rimprovero sì ti eri conservato il vino buono fino ad ora perché te lo volevi bere tu solo giustamente oppure può essere anche un complimento bravo hai conservato fino ad ora il vino buono cioè le cose belle e più sta e più bello è questa è la bellezza non c'è la stantiva l'essere stanti essere tante volte ci si ammuffisce invece deve essere qualcosa di vivo di vitale il vino quando viene invecchiato o si raffina e diventa ancora più buono oppure si nacidisce e questo è quello che possiamo fare noi nel tempo o diventiamo più buoni oppure ci nacidiamo nei nostri rapporti nelle nostre relazioni c'è la possibilità di diventare o più buoni oppure di sfoderare e sguainare la durlindana da un lato la scimitarra dall'altra e si salve chi può e così è allora qual è la scelta nostra conservare le cose buone non solo permettere a Dio di realizzare cose buone nella nostra vita e allora ecco l'esercizio dei carismi di cui ci parlava San Paolo scrivendo alla comunità di Corinto dice vi sono diversi carismi ma attenzione il carisma non è che dà qualcosa in più o qualcosa in meno o togli qualcosa a qualcun altro alla fine tutti abbiamo due mani e cinque dita per ogni mano ma pare che è così o no sì o no e non è che chi ha un carisma e sa fare una cosa sta togliendo a chi non la sa fare alla fine tutti abbiamo lo stesso equipaggiamento ed ecco che il carisma fa sì che l'unico spirito si manifesti nella comunità vi sono diversi ministeri servizi chi fa una cosa e chi ne fa un'altra ma uno solo è il Signore e tutti dobbiamo rendere gloria a Lui che ci dà l'opportunità di partecipare all'opera sua ancora vi sono diverse attività e chi fa una cosa e chi ne fa un'altra chi parla dell'evangelizzazione poco fa parlavate dell'evangelizzazione qualcun altro fa un servizio di carità chi si occupa delle missioni e quindi va fuori a fare carità e chi si occupa invece all'interno delle comunità di rendere decoroso e dignitoso il luogo dove si prega diverse sono le attività ma uno solo è Dio è lì noi che veramente dichiariamo la professione nell'unico Dio altro che il credo che diciamo con la bocca ma uscendo dalle nostre chiese veramente si salve chi può siamo non credibili altro che credenti siamo veramente ridicoli perdonatemi che dico questo quando sì questa cosa no non la faccio più non mi piace ma io non è che faccio le cose perché piace a me o non piace a me il diacono il servitore è colui che serve l'unico Signore e dice Signore grazie perché mi dai l'opportunità di fare del bene ancora oggi mi dai l'opportunità di fare del bene e di partecipare all'opera tua ecco che a ciascuno viene data quindi una manifestazione particolare dello spirito per ciò che è buono nella comunità per edificare per edificare per far crescere e tutti dobbiamo edificare tutti dobbiamo concorrere tutti dobbiamo creare l'opera di Dio e Dio la crea attraverso di noi uno infatti per mezzo dello spirito può avere un linguaggio di sapienza e chissà non è che sta togliendo qualcosa a chi non sa anzi proprio perché ha un linguaggio di sapienza il suo sapere condiviso arricchisce gli altri ma vada che bravo che è tu adesso sei bravo pure tu se riconosci la bravura di quella persona che si sa esprimere è bene ha un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio della scienza della conoscenza di quello che Dio vuole e che bello sapere quando noi diciamo Signore nel Padre nostro che cosa diciamo sia fatta la tua volontà ma se il Signore ti sta comunicando la sua volontà attraverso una persona una persona che conosce il volere di Dio a cui Dio lo manifesta e te lo sta dicendo perché devi essere geloso invidioso di chi ha un linguaggio di conoscenza e quasi quasi vuoi impedirlo come si manifesta il regno di Dio venga il tuo regno ma se tu glielo impedisci ad un altro per mezzo dello spirito del medesimo spirito viene dato il carisma della fede e quello dei servitori si sono fidati di quello che Gesù ha detto perché Maria madre della fede vergine fedele noi la chiamiamo nelle litanie lauretane perché perché lei ha fatto quello che il Signore le ha detto e dice ai servitori e quindi lo dice a ciascuno di noi fate quello che lui vi dirà qualsiasi cosa vi dice voi fatela perché è meglio fare quello che Dio ci dice piuttosto che cercare di piacere agli uomini e poi quando si stancano ti abbandonano ti lasciano a menzana rua a menzana sciata ti lasciano mentre Dio è fedele rimane sempre e allora fai quello che Dio ti dice perché altrimenti il Signore i carismi li toglie e li dà a chi sa farli fruttificare ricordate la parabola dei talenti togli quel talento unico e dallo a chi ne ha dieci ma Signore ne ha già dieci e chi ha sarà nell'abbondanza e al Signore piace dare in sovrabbondanza in sovrabbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che credeva di avere e viene tolto perché non è tuo il carisma ma è per il bene della comunità e se tu non lo eserciti per la comunità il Signore te lo toglie allora capite che per noi è un dono di grazia è un'opportunità oggi se siamo qui non è per fare un piacere al Signore ma ci stiamo facendo un regalo noi ma questa è la bellezza ma io oggi pomeriggio mi potevo riposare e me ne potevo andare al cinema me ne andavo al teatro mi facevo una passeggiata me ne andavo a fare shopping ognuno di noi può dire questo o no e abbiamo scelto invece di stare con Gesù perché ci facciamo questo regalo ci concediamo questo privilegio ecco il dono bello che Dio ci fa ad un altro viene dato il dono delle guarigioni io non voglio questo carisma io non voglio il carisma delle guarigioni sapete perché? perché chiedo al Signore che già stanno tutti bene e così non c'è bisogno del carisma delle guarigioni mentre ci sono quelli che dicono io voglio il carisma delle guarigioni ci deve essere qualcuno malato per manifestarsi il carisma delle guarigioni ad un altro il dono dei miracoli io non voglio il dono dei miracoli e né il carisma dei miracoli sapete perché? perché se noi facciamo quello che è giusto fare ciascuno di noi fa quello che è giusto fare non c'è bisogno di scomodare Dio per fare i miracoli il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci noi vorremmo che il Signore il Signore sfama tutti e così va tutto bene come sarebbe invece più giusto che chi ha accumulato te te saurizzato rubato adesso condivida questa è la bellezza questa è la ricchezza vera allora non c'è bisogno del miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci basta la condivisione tra di noi quando invece il cuore dell'uomo si indurisce allora il Signore deve fare i miracoli quando c'è la cattiveria dell'uomo dell'umanità che sfrutta anche situazioni e mette disordine allora lì Dio deve intervenire per mettere ordine vuoi anche nel ricostruire nel guarire nel sanare quello che la nostra grettezza ha creato ad un altro viene dato il dono della profezia o come vorrei che tutti fossero profeti diceva Mosè a coloro che anche non presentandosi alla convocazione avevano ricevuto lo spirito di profezia e c'erano quelli no quelli non sono venuti quindi niente profezia non possono essere profeti voglia il Signore che tutti fossero profeti cioè che tutti possiamo parlare il dono di profezia meraviglioso è il carisma della profezia tu parli presti la tua voce a Dio e tante volte il Signore ci parla e ti arriva la persona che tu non te l'aspetti ti dice una cosa e dice il Signore mi ha parlato attraverso quella persona ma l'ultima ma quella che stava spazzando a terra e ti dice una cosa e ti arriva il dono di profezia perché parla presta la voce a Dio parla in nome di Dio parla prima che Dio agisca perché tu nel momento in cui Dio sta agendo ti rendi conto che non è opera dell'uomo ma è opera di Dio perché il Signore te l'ha detto perché il Signore te lo dice prima ti dice aspetta questo lo sto facendo io non lo stai facendo tu né tantomeno ti arriva qualcun altro a meno male che c'era questo c'era quello no il Signore te l'ha mandato e te l'ha detto prima io ti mando il mio messaggero io te lo mando sicché le persone che rispondono alla profezia bene partecipano all'opera di Dio altrimenti si perdono l'opportunità ancora il profeta è colui che parla dinanzi a Dio cioè colui che sta alla presenza di Dio cioè colui che quando esce da qua il profeta bello tutti siamo profeti qua davanti al Santissimo mettiamo diciamo belle parole il vero profeta è colui che porta il lieto messaggio fuori come sono belli sui monti i piedi del messaggero quando il Signore ci manda a salire sulle alture a fare sacrifici a stare con quelli con cui veramente è una fatica a starci ogni giorno e portare la parola di Dio e nell'ospedale devi dare la parola di Dio e il marito con la moglie e la moglie deve sopportare il marito o viceversa il marito la moglie dipende dai casi e lì tu capisci che fai la volontà di Dio quella è la tua essere profeti significa questo oggi essere presenza di Dio parola di Dio viva nell'umanità ad un altro viene dato il dono di discernere gli spiriti che non significa che sono quelli che si improvvisano menzi mavari menzi esorcisti e fanno più confusione che altro il discernimento degli spiriti o anche il carisma della liberazione chi ce l'ha ce l'ha chi non ce l'ha non se lo può inventare perdonatemi Santa Caterina da Siena non era esorcista non era prete non era non aveva ricevuto neanche gli ordini minori quando arrivavano da lei gli indemoniati scappavano i diavoli scappavano perché aveva il carisma della liberazione allora cerchiamo di capirle certe cose o ci sono ed è acclarato affiorano da soli perché è lo spirito che soffia dove vuole e da chi vuole quando vuole perché vuole perché la comunità possa essere veramente benedetta anche questo carisma io non lo voglio perché perché così ci penso il Signore è libera prima è santo liberante come si suol dire così siamo già liberi prima di venire qua oppure prima ancora di entrare dal cancello rosso tutti già liberati e si arriva già liberati e tranquilli così deve essere perché il Signore agisce prima perché opera sua non è opera degli uomini ancora ad un altro il dono della varietà delle lingue ad un altro l'interpretazione delle lingue non ci perdiamo nelle realtà che accompagnano accompagnavano la Chiesa e possono accompagnarla anche oggi però vorrei concludere con un riferimento ai servitori il termine che usa San Giovanni è diaconoi che sono non diuloi gli schiavi i prezzolati quelli che io ti pago ti faccio un servizio devi pulire questa Chiesa quanto vuoi 20 euro ciao no il vero servizio è un servizio libero che ti affranca è un servizio dove la ricompensa è fare le cose per il Signore e quello che tu fai per il Signore Dio non se lo dimenticherà mai e dopo duemila anni queste persone vengono ricordate anche oggi nel Vangelo noi non sappiamo i nomi di queste persone mi commuove pensare che Gesù in questo momento è in paradiso sta chiamando per nome quelle persone e sta dicendo oggi in tutta la Chiesa si parla di voi che siete stati ubbidienti capite no? questa è la bellezza quando noi facciamo le cose per il Signore il Signore non se ne scorda mai questa è la bellezza altro che i riconoscimenti umani vergogna per gli altri vergogna il Signore a quelli che vivono perché vogliono un riconoscimento umano dire vergogna tu non mi hai servito ti sei servito di me capite la bellezza del Vangelo i servitori sono quelli che stanno con il Signore sempre anche quando il nemico semina la zizzania e stanno nella casa del Signore padrone che cosa è successo non hai seminato il seme buono non hai seminato il seme buono perché c'è la zizzania mentre noi dormivamo tutti il nemico ha fatto questo e quei servitori dormivano nella casa col padrone ecco la bellezza di stare con Gesù sempre i servitori sono quelli che hanno libero accesso alle ricchezze di Dio quelli che stanno con il Signore hanno sanno dove mettere le mani vi ricordate il figlio prodigo presto prendete l'anello mettetelo al dito il padrone di casa il padre manco lo sapeva dove erano gli anelli dove erano le cose preziose sono i servi che lo sanno siamo noi che possiamo agire in nome di Dio fare i miracoli in nome di Dio ecco la bellezza di stare con il Signore ecco la bellezza del Vangelo altrimenti versiamo l'acqua e noi troveremo acqua capite se invece noi in silenzio facciamo quello che Dio ci dice i miracoli arrivano lo sappiamo che è anche merito nostro lo sappiamo perché il Signore dice bene servo buono e fedele hai fatto quello che io ti ho detto e questa è la ricompensa che avvengono quelle cose che tu mi hai chiesto perché alla fine quei servitori si sarebbero sentiti mortificati pure loro senza vino che cosa dobbiamo fare ora che fiasco che è venuta sta festa invece c'è la festa ecco la festa che non deve mai finire nella nostra vita non può e non deve mai finire la festa se c'è Gesù non finisce altrimenti ci dobbiamo mettere tutti in discussione fratelli amati veramente noi dobbiamo essere quei servi che fanno la volontà di Dio a prescindere da quello che gli altri possono capire o non capire vedere o non vedere sarà il Signore poi alla fine a dare la ricompensa ai Suoi servi fedeli voglia il Signore realizzare questo per noi in modo particolare per noi che siamo qui stasera il Signore lo deve fare per noi Signore io c'ero e c'è forse qualcosa che nella nostra vita deve cambiare una guarigione una conversione stasera il Signore si ricorderà di chi ha detto sì e di chi è venuto ma non qui di chi è andato anche nelle celebrazioni in parrocchia e lì ha detto Signore io ci sono e faccio quello che tu mi dici perché se tu parli io devo fare quello che dici tu non quello che la gente parla perché io non faccia questa è la bellezza dell'essere servitori del Vangelo ci accompagni Maria madre di Gesù madre nostra che ci insegna la fiducia disarmante qualunque cosa il Signore ci dica fatela qualsiasi cosa il Signore mette nel nostro cuore facciamola del giudizio degli uomini del giudizio della storia ci interessi poco ci interessi piuttosto il giudizio di Dio il giudizio del Re e Signore del tempo e della storia che ci ricompensi che ci benedica con la larghezza dei Suoi favori perché possiamo vedere la Sua mano muoversi per noi e attraverso di noi Amen ci mettiamo in piedi